Spazio anche per i difensori per salire da dietro come in questo caso Howard, tutto ok? No, no, non c'è niente di ok Non sono mai stato così, non ho che, vita mia Ho cercato di frenare Una settimana fa stavo bene, ero a posto Questa è l'hotel Per quanto tempo ne avrai, Doris? Doris? Devo avere, sei tonta parte